A chiuso con l'incontro più bello, più inaspettato e che meglio di tutti ha illustrato il titolo scelto quest'anno, Il limite come risorsa, la rassegna La bellezza salverà il mondo è realizzata dall'associazione To Groove Pistoia, che per la conferenza in musica conclusiva del programma della sua seconda edizione ha avuto per ospite Cristina Acquistapace. Sono down, sono felice, ora vi spiego il perché si è intitolato l'incontro con l'ospite affetta da Trisomia 21, più nota come sindrome di Down, che ai partecipanti in fondo prima di tutto ha fatto capire come la vita sia talmente ricca, talmente inafferrabile e multiforme da andare ben oltre quello che può spiegare la genetica. Cristina Acquistapace nel 2006 ha 33 anni e è entrata nell'Ordda Virginum della diocesi di Como, un ordine di suori che continuano a vivere dove desiderano e ad operare nel loro contesto di lavoro. Come è sorta questa vocazione? Allora, mi trovavo in Africa, quando per lungo tempo mia zia ha operato cose meravigliose. E io sono andata a trovarla nel 91, avevo 19 anni e avendo fatto un corso di croce rossa per essere una volontaria, ho cercato di rendermi utile nel piccolo ospedale di un villaggio a nord del Kenya. E un giorno, mentre mi avviavo alle mie mansioni quotidiane, dalla parte della strada è arrivata una bambina e quando i miei occhi hanno incrociato i suoi, io ho visto il volto del Signore e la sua voce che mi chiamava, che chiamava anche a me con una voce di padre e di madre. Perché io penso che il nostro Signore ci vuole, ci ama, un amore completo, che sia paterno che materno. Gli ho fatto giustamente notare a chi rivolgeva una tale vocazione, una simile vocazione. Allora è risponduta nel mio cuore il bellissimo passaggio di Samuele, l'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore.